Non capiamo come mai le persone pensino che queste cose siano le terme più belle di Budapest Oggi andiamo alle terme Gellert, le più famose di Budapest Siamo appena entrati, c'era un po' di fila però siamo riusciti a farli subito i biglietti A me ho speso 27,50 a testa, oggi è venerdì quindi costa leggermente in più I bagni Gellert si trovano nella parte di Buda e sono considerati tra i più famosi di Budapest Per la bellezza architettonica dell'edificio in stile Art Nouveau E delle decorazioni interne di mosaici colorati e maioliche Queste terme sono state costruite tra il 1912 e il 1918 Vennero però danneggiate dai bombardamenti sovietici durante la Seconda Guerra Mondiale E poi ricostruite successivamente Le acque provengono dalle sorgenti termali del Monte San Gerardo E contengono proprietà curative Infatti proprio qui nel Medioevo era situato un ospedale Adesso abbiamo trovato questa piscina, adesso ci facciamo il bagno Speriamo di vederne altre perché per ora c'è soltanto questa Tutto è trasandato, ci sono delle piscine spente con acqua verde Quindi secondo me è un po' una truffa pagare 27,50 euro per questa piscina e quella interna Cioè sono le più brutte che abbiamo visto fino a ora Io sinceramente non me le aspettavo così perché sono tanto nominate, tanto famose Tutti dicono di venire, che sono le più belle Poi arriviamo e c'è tutto veramente malmesso Soprattutto la piscina qui che è lasciata praticamente decadente E quindi un po' mi sta deludendo Spero di potermi ricredere E' bella fresca, non ci sono scritti i gradi Però è molto fredda Entriamo nella sauna che dovrebbe essere intorno agli 85 gradi Qui sembra molto bello a livello di stato e architettura e tutto E' un peccato che sia così trasandato Vabbè non si può accedere Però appunto sono un sacco di aria Quindi non si può accedere, sembra tutto abbandonato L'impianto termale è composto da una piscina centrale Quella per nuotare, infatti è la più grande Due ai lati che sono bagni termali Un bagno termale un po' più piccolo vicino alla piscina in cui si nuota Una piscina all'esterno che è chiusa e trasandata con acqua verde per adesso E' una piscina più piccola sempre all'esterno che appunto è molto piccola È un peccato perché queste terme sembrano molto belle Ci sono appunto diverse statue E' curato a livello di design, a livello di architettura Però sono trasandate, cioè sono sporchissime Sembra che non ci sia nessuna manutenzione Quindi sì, è un peccato Nessamente non capiamo come mai le persone pensino Che questa qua sia la eterna più bella di Budapest Ora siamo nella vasca a 40 gradi E' caldissima Però ora cerchiamo le vasche fredde Perché andremo a farci un topo lì O meglio pantone O si farà una vasca lì Non è molto freddo Perché comunque è a 16 gradi Però è all'interno e non è freddissimo La cosa strana è che è praticamente nella sala doccia Quindi è tipo nascosta La sauna da questa parte però risulta chiusa Qui è a 45-50 gradi Ma è chiusa come diverse aree di queste terme Ora siamo nella parte parallela Ci sono altre due piscine Con una temperatura un po' più bassa Questa parte sembra essere abbastanza più moderna rispetto all'altra E praticamente non ci sono statue Al contrario dell'altra parte E sembra anche un po' più pulita Ora sto entrando nella piscina Questa qua La più grande In cui si nuove E in questa qui C'è l'obbligo di mettere la cucina Questa piscina forse è la più bella Esteticamente sembra un po' più pulita rispetto alle altre E l'acqua qui è fresca Ma ci sta perché appunto è perduta Abbiamo fatto il bagno Nella piscina un po' più calda Che era a 36 gradi Non era male Forse c'era un po' tanta gente Perché comunque le piscine sono poche E sopra c'è anche il bar Quindi si sale su C'è nei tavolini In cui la star Se non è qualcosa da mangiare Se uno vuole rimanere qui a pranzo Siamo usciti adesso dalle terme Per noi assolutamente da non fare Siamo rimasti super delusi Probabilmente alle condizioni attuali avremmo pagato forse 5 euro per stare la giornata Non 27 perché sono sporche C'è poco da fare Sono trasandate E sono praticamente decadenti Non è al livello che ci aspettavamo che fosse Quindi se volete andare a delle terme E divertirvi realmente E non spendere così tanto Vi lasciamo qui il video In cui siamo andati alle terme di Rudas Perché quelle sicuro Vale la pena provarle Alla prossima